Buonasera, buonasera a tutti e a tutte e grazie per essere qui questa sera durante questo incontro. Grazie, intanto facciamoci un applauso tutti e facciamo un applauso anche al cielo che è sopra le nostre teste perché sia benevolo. Questa sera ospitiamo Pescasseloli, anzi ospita uno degli incontri della serie del festival Pescasseloli Legge e accanto a me c'è Vito Mancuso con il quale stasera parleremo del suo libro Etica per giorni difficili pubblicato da Garzanti, Dacia Maraini ovviamente che dialogherà con lui e Andrea Casanova Moroni che leggerà dei brani tratti da questo libro. Ringraziamo, io sono Flavia Capone e mi occuperò di moderare questo incontro, grazie. Ringraziamo ovviamente tutte le persone e le organizzazioni che hanno permesso che questo festival fosse possibile, ringraziamo il Centro per il Libro e la Lettura, il Parco Nazionale d'Abruzzo, il Consiglio regionale d'Abruzzo, il Comune di Pescasseloli e l'Associazione Pescasseloli è Viva e in particolare Fiorella Graziani per l'organizzazione di questo festival. Ringrazio anche il Sindaco di Pescasseloli che è qua e il Direttore del Parco e il Monsignor Paglia che stasera è con noi, vista anche insomma la tematica mi sembra una presenza assolutamente importante. Allora io direi di cominciare questo incontro per entrare anche un po' nel libro con una lettura dal nostro lettore Andrea Casanova Moroni. Oggi la percezione di un valore avvertito dall'ego come più importante del proprio interesse e del proprio piacere, da cui discendono senso del dovere e desiderio di dedizione, è la prima delle due componenti strutturali dell'etica. Ma come siamo messi oggi al riguardo? Quanto è diffusa ai nostri giorni la percezione di qualcosa di superiore rispetto al proprio ego? Un giorno conversavo con lo psicoanalista Stefano Bolognini, primo italiano a ricoprire la carica di presidente della società psicoanalitica internazionale fondata da Freud all'inizio del secolo scorso. Ed egli mi disse una cosa che mi colpì. All'inizio della sua carriera i pazienti si presentavano perché oppressi dal superego e dai relativi sensi di colpa, mentre oggi si presentano all'opposto perché soffrono di mancanza del superego. Io credo che la scomparsa del superego e il relativo disorientamento che in talunni provoca malessere psichico sia la traduzione esistenziale a livello collettivo della morte di Dio. La morte di Dio equivale alla scomparsa del superego, ovvero alla fine della percezione di qualcosa di super, di superiore, di più importante rispetto a sé. Senza tale percezione, componente strutturale dell'etica in quanto esperienza del valore, l'etica non si attiva e il soggetto rimane prigioniero nella caverna dell'ego. E la realtà attesta che sono sempre più numerosi coloro che vivono come se non vi sia nulla di più importante del proprio sé e del proprio piacere. Nulla di fronte a cui sentono il dovere di fermarsi e di conformare l'agire, nulla di indisponibile alle proprie voglie e il rispetto a cui si mettono al contrario a disposizione. L'unica legge importante è quella dell'ego, il quale, in mancanza del superego, diviene un ego super, ingrossato, ingrassato, sempre più avido, vorace, sfrontato. Come ho detto sopra, la vera differenza non è tra chi crede e chi non crede, ma tra chi trascende se stesso e chi no. E oggi purtroppo sono sempre più numerosi coloro che fanno del proprio ego la punta di partenza e il punto di arrivo dell'esistere. Il che non avviene necessariamente per un imperante egoismo, il quale ha sempre accompagnato l'esistenza umana e oggi non è certo superiore al passato, ma per la difficoltà a riconoscere e a nominare un valore più importante di sé, i nomi con cui nel passato si usava a chiamare questa dimensione più importante, cioè Dio, religione, utopia, legge, famiglia, morale, verità, giustizia, ideale, bene comune, risultano consumati e soprattutto non universalmente condivisibili. E questo è il motivo per cui sono sempre meno coloro che vivono per valori che superano l'orizzonte del loro semplice ego. Siccome però l'etica nasce proprio da un sentimento di un valore più alto dell'ego, oggi, inevitabilmente, essa tende a essere sempre più rara e a lasciare il posto ad altri atteggiamenti quali calcolo, utilità, interesse, compromesso, contratto. Grazie mille, grazie mille per questa lettura che ci ha permesso subito, secondo me, di centrare un punto, cioè di capire quanto un titolo che può sembrare difficile, di difficile comprensione, una parola che può sembrare di difficile comprensione, come è la parola etica, in realtà sia un qualcosa che ci tocca profondamente, che ci può appassionare e la cui mancanza può effettivamente creare un disvalore nella nostra società. E questo è un libro che raccoglie interventi, articoli, rielabora anche tutta una serie di interventi, di scritti, di Vito Mancuso, che ruotano appunto attorno a questo concetto di etica e al fatto che ciò che manca in questo momento storico è proprio quella sensazione di trascendere il proprio mero tornaconto personale, trascendere se stessi e pensare non solo più in alto, ma pensare per tutti invece che solo per se stessi. Può sembrare appunto un argomento complesso, in realtà è qualcosa che in fondo tocca ciascuno di noi e io credo che questo sia il valore importante del discorso e dell'opera in generale di Vito Mancuso, perché è qualcosa che in fondo ci fa tutti partecipi e ci tocca da vicino. Allora io chiederei subito a Dacia di intervenire rispetto a questo libro. Grazie. Allora, questo libro ha molti punti importantissimi su cui noi ragioniamo e riflettiamo tutti quanti, cioè il bene e il male, che cos'è il bene e che cos'è il male. E giustamente lui dice non esisterebbe il bene se non ci fosse il male, cioè il male è l'altra faccia del bene, quindi le cose sono legate profondamente. Però ecco, il libro comincia con questa idea, sento che abbiamo un bisogno estremo, direi disperato, vista la disperazione che pervade la mente e arriva talora a stringerci le viscere. Più dell'energia del gas russo, o di quella del sole, del vento, più dell'ennesimo vaccino, più di una legge elettorale che finalmente funzioni, generando governi stabili, più di ogni altra urgenza economica, sociale, politica, io penso che noi abbiamo bisogno di etica. Questo secondo me, non so se sei d'accordo, ma mi sembra il centro del libro. Il centro del libro parte proprio da questa cosa. Abbiamo bisogno di qualcosa di spirituale che corrisponde al bisogno del gas o del petrolio, cioè è chiaro che noi senza gas, senza petrolio, senza luce elettrica non possiamo sopravvivere, ma c'è qualcos'altro che corrisponde a un nutrimento fisico, che è un nutrimento spirituale, che è appunto il bisogno di un'etica. Ecco, che cos'è? Allora naturalmente la seconda domanda è che cos'è l'etica? Terza domanda, c'è un bene, c'è un male? Come distinguere il bene dal male? Queste sono domande che ci facciamo tutti, sono profondissime, sono alla base della nostra vita. E lui cerca di rispondere, magari adesso te lo faccio fare a te, perché tu dici che il bene è un sentimento che non si basa su dei precetti, ma su un sentimento della coscienza. Infatti tu parli di una creazione di una coscienza, di una creazione di una coscienza collettiva, questo anch'io lo penso profondamente, sono d'accordo con te, perché la coscienza ce l'abbiamo tutti, ma se non condividiamo dei valori, la coscienza diventa sparpagliata, diventa personale, diventa qualcosa che non riguarda la collettività. Quindi la creazione di una coscienza collettiva è quello che potremmo chiamare etica, che però cambia, per quello che l'etica non può stare nei libri, non può stare nelle sentenze. L'etica è qualcosa che cambia secondo il cambiamento dei tempi, perché si pongono nuovi problemi di convivenza fra gli esseri umani. Questa è alla base dell'etica. Allora, se vuoi rispondere tu, se ho detto bene, se ho interpretato bene il tuo libro, poi ti farò qualche altra domanda. Bene, buonasera a tutti e grazie della vostra presenza e del vostro ascolto. Ecco, sì, Dacia, hai interpretato bene, come ha letto molto bene, Andrea, come ha detto molto bene Flavia, e secondo me si sta, io sento, sento che si sta creando un bel clima di ascolto, di attenzione. La realtà, vedi, Dacia, è che noi senza il gas e il petrolio, dico noi umanità, abbiamo vissuto per secoli e secoli, millenni e millenni, sì, in maniera diversa rispetto ad adesso, ma abbiamo vissuto, e abbiamo vissuto avendo la percezione di un bene comune, formando società, società, ho messo l'accento sulla i di società in maniera un po' strana, perché mi rifaccio al latino, societas, e societas rimanda a socio, per cui quando noi diciamo società, intendiamo un insieme di soci. L'etica è stata quella cosa, uso volutamente cosa, vorrei dire tensione del cuore, della mente, vorrei dire qualcosa di irrazionale, e al contempo di profondamente capace di ispirare la ragione, la cui forza vitale però non è la ragione, ma è un sentimento, ecco è stato quel sentimento, quell'energia, quel carburante, che ha fatto sì che io, tu, lui, lei, tu, 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 ci sentissimo, squadra, società, societas, qualcosa, per cui certo c'è sempre il sentimento dell'io, ma c'è qualcosa di più importante di me, che mi lega a te, e che lega a te e me e lui e lui e lei, e c'è la tribù, e c'è il clan, e c'è la gens, e c'è il popolo, e c'è la vita umana, perché la vita umana si gioca nel singolare e nel plurale, nella misura in cui il plurale schiaccia il singolare, e questo è stato il limite dell'antichità, il limite, perché non c'è niente che non abbia un limite, niente, non c'è niente di perfetto, tutto è imperfetto, tutto è infieri, tutto è in evoluzione, e uno deve capire qual è il limite per superarlo e per progredire, perché tutto è così, tutto è un flusso, e il flusso è qualche cosa di virtuoso, nella misura in cui fa salire, ma sali se capisci da dove devi salire, qual è la cosa che devi superare, ora il superamento dell'epoca antica era che il singolare veniva schiacciato rispetto al plurale, per cui bisognava fare così, perché bisognava fare così, perché la società era più importante del singolo, va bene, ed è nata la modernità su questo, ed è giusto che ci sia stata libertà, egalità, fraternità, poi se la sono mangiata subito, insomma diciamo anche fraternità, ma la cosa decisiva, la vera vittoria è stata la libertà, la libertà, che è la volontà del singolo di non essere appunto legato alla catena sociale, bene, adesso siamo passati all'estremo opposto, c'è l'io, il dio, io, che è così libero da essere assoluto, nel senso proprio di non relato, non relativo, sciolto, sciolto, assoluto, nel senso etimologico, etimologico del termine, no? E quindi viene a mancare quel sentimento, quella, quell'energia che ci rende soci, e mentre prima il contesto sociale ci schiacciava troppo, adesso il contesto sociale provoca quella cosa dello psicanalista, il mio caro amico Stefano Bolognini, che dice che la gente sta male perché non ha niente di super, cioè non ha niente a cui connettersi per dare un senso al proprio io, cioè, ecco, bene, questo era per la prima questione, la seconda questione, che cos'è l'etica? Ma l'etica, e qui potremmo passare la giornata naturalmente per ragionare, però, c'è un arco qua da qualche parte, beh sì, insomma, non so se sono archi, comunque l'etica è un arco, che si basa su due pilastri, il primo pilastro è l'esperienza del valore, il secondo pilastro è l'esperienza della libertà, per avere l'arco dell'etica voi dovete fare esperienza del valore e dell'esperienza della libertà, cosa vuol dire fare esperienza del valore? Vuol dire sentire, sentire, ho detto, non capire, sentire, qualcosa che non nasce qui ma nasce qui e qui, sentire, che tu sei importante ma che c'è qualcosa di più importante di te, la natura è più importante di te, le montagne, gli alberi, e poi il contesto sociale, la famiglia, il bene comune, c'è qualcosa di più importante del tuo particolare, del tuo singolo tornaconto, del tuo interesse, se tu non hai questa esperienza non tutti ce l'hanno, c'è qualcuno che pensa, più importante di me non c'è proprio niente, benissimo, non ho niente da dire, non ci sono le condizioni per il nascere dell'etica, ci saranno le condizioni per il nascere del diritto, questo sì, perché c'è la sanzione, non puoi fare una cosa che torna a tuo favore ma che elede qual'altro perché sennò viene sanzionata dalla legge, ma non c'è la possibilità dell'etica e questa è l'esperienza del valore e poi c'è l'esperienza della libertà, cioè il fatto che tu quel sentimento che si avvicina, l'esperienza del valore non è qualcosa di impositivo, appunto non c'è la spada del diritto, non c'è la sanzione, lo puoi fare, lo puoi seguire, questo moto del cuore, questa spinta la puoi seguire oppure no, sei libero, se la tua libertà si determina a favore del valore allora hai che un pilastro si lega all'altro ed ecco l'etica, quindi etica uguale valore più libertà, se avete solo valore senza libertà avete il diritto, devi fare così e basta, se avete la libertà solamente senza il valore avete l'edonismo, i propri comodi, l'anarchia, insomma il commercio nel senso negativo del termine, faccio quello che mi pare e non devo rendere conto a nessuno, se avete valore più libertà avete etica. E infine la terza domanda, il bene e il male, anche qui bene e il male, la questione diventa cosa nasce prima? Cioè secondo voi sono uguali? L'esperienza del bene e l'esperienza del male sono perfettamente paritari? O prima c'è un'esperienza e poi allora io sono convinto ma è una convinzione sì che si radica nella mia esperienza perché magari l'esperienza di un altro è diversa e quindi qui vedete quando si parla di queste cose si tocca la personalità più profonda si tocca la filosofia ma filosofia intesa non come ideologia ma come indagine di se stessi come diceva il grande Eraclito a conclusione ho indagato me stesso è solo così che nasce il pensiero vero che non è il catechismo che non è la dottrina che non è quello di riportare le cose pensate dagli altri ma un pensiero come credo quando indaghi te stesso e senti che cosa è per te effettivamente un'esperienza la pensi la espliciti la razionalizzi l'argomenti la argomenti e hai il pensiero filosofico ovvero la mia filosofia nasce dal fatto che prima c'è il bene e qual è il mio argomento e poi concludo mi rendo conto che bisognerebbe poi adesso tanto parla parla d'accia e quindi sarei a esplicitare eventualmente altre cose oscure ma la mia esperienza la mia convinzione scusate in base alla quale è sorto in me il pensiero della primordialità del bene è depositata in una pagina di un mio libro di ormai tanto tempo fa dal titolo l'anima il suo destino dove dico ho scoperto qual è l'archeologia del bene e per me l'archeologia del bene sono i nove mesi nel ventre materno quando noi venivamo formati dal bene perché il bene prima ancora che essere qualcosa di etico è qualcosa di fisico è ordine è armonia è organizzazione è vita vita che è ordine armonia organizzazione a livello chimico a livello prima ancora fisico e poi chimico e poi biologico la vita è organizzazione complessissima già solo per avere una cellula per avere poi miliardi e miliardi di cellule perfettamente correlate tra di loro e formare un organismo e poi formare un pensiero bisogna avere un logos scusate l'espressione ma l'espressione è classica sì una una fonte di informazione ciò che dà forma a questa energia caotica che è la pasta l'iniziale dell'essere bisogna che ci sia precisamente questo soffio questo soffio che entra nell'essere che all'inizio è informale e gli dia forma e che cos'è questa forma che entra nella materia informe e la rende vita il logos l'anima del mondo la mano di Dio il soffio di Dio non lo sappiamo la possiamo chiamare in un modo o nell'altro ma è il bene detto in un'altra maniera è il bene e quando tu sei libero ormai sei nato sei uscito dal ventre materno non solo hai passato i primi anni sei diventato un uomo sei diventato un essere capace di capire di intendere di volere tutte queste cose e torni a servire quella dimensione di logicità di informazione di organizzazione che ti ha portato all'essere e che ti mantiene ancora adesso all'essere se sei in salute quando fai quando fai questo tu compi la tua vita fine siamo qui per quello per essere fedeli alla nostra origine all'archè grazie tu qui lo chiarisci molto bene dici se ti chiedi appunto prima ti fai delle domande molto generali molto belle che ci facciamo tutti per esempio che cos'è il bene cos'è il male è più forte il bene o il male esiste la giustizia nel mondo o esiste solo la legge imposta dal più forte esiste l'amore o esiste solo la libido e qualche sentimento variamente cangiante c'è una bellezza oggettiva e universale o è tutto questione di gusti c'è Dio c'è una vita dopo la morte l'anima muore con il corpo oppure va in cielo oppure trasmigra in altri corpi perché c'è l'essere non invece il nulla perché c'è questo essere ordinato e non l'essere caotico qual è l'origine della vita qual è il suo senso che cosa mi spinge a domandare ecco queste domande te le fai ce le facciamo tutti sono domande universali e tornando al bene che tu dicevi perché una delle questioni più importanti che noi ci facciamo quotidianamente è cos'è il bene e cos'è il male no? che cos'è fare il bene ecco non è quello che sta scritto nei libri o nei catechismi ma qualcosa che riguarda la nostra coscienza e tu qui addirittura fai delle risposte molto limpide dicendo esiste un bene comune a tutti gli esseri umani universale oggettivo che non dipende dalle circostanze ma che si sostanzia nella natura delle cose che è questo direi che è un chiarissimo rifiuto del relativismo sembra di capire e io infatti io lo penso anch'io penso che esistono alcuni valori fondamentali che sono quelli per esempio della libertà di pensiero di parola di movimento che tutti gli esseri umani hanno di cui tutti gli esseri umani hanno bisogno ecco e che potrebbero benissimo coincidere cioè coniugare e non dividere perché i pericoli che ci portano alle guerre sono le divisioni e quindi quello che invece ci unisce potrebbero essere alcuni valori fondamentali che sono quelli che riguardano come dicevi prima la nostra libertà di coscienza la nostra libertà di pensiero poi dici due questo bene consiste in ciò che che favorisce la vita ed è formalmente definibile come alimento della vita in tutte le sue dimensioni e questo è anche molto bello cioè quello che dà armonia alla vita è bene quello che distrugge la vita che crea guerra che crea conflitto e male potremmo dire questo te lo richiedo tre esso può essere riconosciuto da ogni essere umano mediante la luce della propria coscienza per cui è essenziale lasciare alla singola coscienza la libertà di decidere su di sé in piena autonoma determinazione riassumo questa mia visione mediante questa semplice formula sacralità della vita libera ecco quindi ecco qui come riesci a conciliare la libertà spirituale della coscienza con la libertà sociale che è un'altra questione perché spesso non coincidono le due cose e spesso sono anche in conflitto questa è un'altra domanda a cui ti chiedo di rispondere scrive scrive così piccolo scrive con una calligrafia minuscola sì sì così mi viene piccola ecco così più passa il tempo più diventa piccola ecco come un bisogno di raccoglimento di concentrarsi di così va bene allora la prima questione sì io sono convinto che esista un bene universale che le singole persone nella misura in cui sono fisiologicamente normali ecco di tutti i tempi di tutti i luoghi riconoscono io ho scritto un libro su i quattro maestri l'ho chiamato Socrate Buddha Confucio Gesù ed è sorprendente vedere come testi dell'antica Grecia corrispondano a testi dell'antica Cina c'è un esempio poi che è proprio palese ritorna in Platone Cicerone lo riprende ma è chiaro Cicerone era andato a scuola ad Atene e quindi era era un platonico alla fine apparteneva all'accademica all'accademia e quindi va bene lo riprende ma Chen Xi si chiamava un discepolo di Confucio ma di mille anni posteriore rifà il medesimo esempio del tutto indipendente mente ovviamente sia da Cicerone sia da Platone qual è questo esempio riguarda riguarda l'essenzialità della giustizia Platone dice nel primo libro della Repubblica che la giustizia parentesi che faccio io che è ben altra cosa dalla legalità chiaro no? la legalità è la giustizia umana la giustizia invece la giustizia l'antico l'odio lo dice chiaramente appunto dice la giustizia è così fondamentale che persino una banda di ladri per poter sussistere come organizzazione criminale ma come e sottolineo però organizzazione deve rispettarla al proprio interno perché se non la rispetta e se il bottino non viene diviso secondo i patti che sono stabiliti insomma è inutile continuare con gli esempi la banda si disgrega questo lo dice Platone lo riprende Cicerone lo ritrovate mille anni dopo in Cina in un filosofo neoconfuciano ecco è solo un esempio che dice esattamente la quella cosa che dicevo prima tutti noi siamo stati nel ventre materno tutti e tutti noi siamo stati formati da questa logica 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 sottolineo logica di organizzazione vitale che ha fatto sì che le nostre cellule si unissero a formare tutta quella meraviglia che poi è il bambino e io penso che questa cosa sia questa archeologia proprio sia basilare anche che cos'è il pensiero quando è vero non è nient'altro che il tentativo di portare alla mente di esprimere alla mente quello che prima che c'è sotto la mente il cuore le viscere e mettiamo anche i genitali e arriviamo fino ai piedi tutto l'apparato vivente e quello devi esprimere ciò che ti tiene in salute salute salus in latino vuol dire salute vuol dire anche salvezza salus e così come esistono le malattie mentali che riguardano la psiche vedi il discorso delle psichiate esistono malattie mentali che riguardano l'etica è una grande malattia mentale che riguarda l'etica è quella di pensare che appunto l'etica non ci sia che non ci sia il bene che tutto sia contratto all'interno di questo mondo mercantile dove tutto si mercanteggia si mercanteggia anche il bene e il male tutto a un prezzo ti pago quanto costi dice no io non costo non sono in vendita ci sono delle cose che non si vendono perché se le vendessi offenderei la mia anima e la mia anima chiamatela come volete mi riporta a quella logica che che nel grebo materno mi ha portato a essere quello che sono e se offendo questa cosa io fallisco profondamente posso guadagnare qualunque cosa ma fallisco e si può fallire sapete nell'esperimento della vita si può fallire puoi arrivare a guadagnare miliardi puoi arrivare a essere chissà chi ma fallisci come essere umano perché tradisci la logica vitale archetipale che ti ha portato qui rispetto alla quale devi fare la partita si tratta di essere fedeli a questa cosa poi qualcuno dietro questo vedrà un dio dietro questo e dirà e interpreterà questa fedeltà come fede adesione a un dio certo qualcun altro no ma è relativo questo quello che veramente conta è lo stile di vita complessivo di un essere umano e poi ed è per questo concludo la prima domanda che io sono convinto che posso dirlo anche se è un po' così ma posso dirlo il mio amico perché veramente alla fine ci scambiavamo le lettere insomma il mio amico uno dei più grandi teologi del novecento Hans King ho avuto questo dono dalla vita insomma la differenza di età era notevole insomma però ecco lui era teologo svizzero un po' ribelle insomma che tutti voi conoscete e immagino qualcuno di voi anche stima scomparso un anno e mezzo fa lui era convinto che il nostro tempo avesse un compito abbia un compito decisivo quello di lui lo chiamava alla tedesca Weltethos cioè un'etica mondiale le religioni devono devono dare vita a un'etica mondiale che riunisca proprio le religioni ma mettiamoci anche non religiosi troviamo un'etica mondiale esiste la possibilità di farla di concepirla di farla approvare di nuovi dieci comandamenti ma che siano veramente approvati ecco lui dice questa cosa è decisiva e ha lavorato per tanto tempo per farlo ha ottenuto qualcosa ecco il cammino è ancora lungo ma io penso che questo sia uno dei compiti del pensiero contemporaneo poi la seconda domanda riguarda la coscienza è una cosa che a me sta molto a cuore questo discorso della coscienza perché naturalmente è uno dei cardini dell'etica ma della vita in generale io sono convinto che non c'è niente di più importante in un essere umano della coscienza il bene dell'intelletto il bene dell'intelletto il bene dell'intelletto che si dice non come capacità di capire anche ma ancora prima come capacità di sentire di percepire di sentire che una cosa è bene di sentire che una cosa è male di metterti in comunione con le persone che ascolti ecco di avere una coscienza che risuona dentro di te e che ti mette anche in discussione con te perché vedete la coscienza è qualcosa di incredibile perché ti rende oggetto rispetto a te stesso cioè è quella io ricordo quando andavo all'oratorio la prima volta in Brianza nel paese della Brianza dove sono nato e cresciuto ecco madre candida si chiamava la rivedo ancora una madre delle canossiane un po' bassina che mi dice l'hai fatto con l'accento brianzolo l'hai fatto l'esame di coscienza io facevo forse la prima elementare e così via non lo sapevo nessuno mai mi aveva parlato in famiglia non si usava questa espressione che cos'è madre l'esame la coscienza e l'esame di coscienza va bene poi non so cosa mi ha detto però mi è rimasta in mente questa cosa dell'esame di coscienza e un giorno ho capito ma chi fa l'esame alla coscienza? è ancora la coscienza che fa l'esame alla coscienza non è che io vado da qualcuno sono io che mi oggettivo che invece di guardare i film degli altri quanti film si guardano oggi c'è gente che guarda non uno due film al giorno sempre la vita degli altri la vita degli altri e invece di guardare la vita degli altri uno si ferma si siede e dice beh riavvolgiamo il nastro vediamo come ho vissuto oggi che ho incontrato che cosa ho fatto quanto ho mentito quanto ho detto la verità quanto sono stato scorto insomma va bene è inutile entrare e ripercorrere gli esempi chi fa l'esame alla coscienza è sempre la coscienza ma allora io ho la possibilità di essere soggetto e oggetto al contempo io sono il soggetto che può oggettivare me stesso la mia vita e la può e la può pesare pensare in italiano viene da pesare pesare dare un peso ponderare dare un pondus so pesare ecco io posso pensare me stesso pesare me stesso darmi un voto e riformarmi ricordo una volta adesso vado un po' spada così quando insegnavo a San Raffaele ricordo una volta un neuroscienziato mi disse ma Vito tu parli sempre di libertà sei voi filosofi teologi parlate di libertà ma sai che la libertà non esiste perché adesso viene un po' qua se io ti metto ti siedi lì su quasi io ti metto come li chiamava adesso non mi ricordo ma pensate a elettrodi insomma delle cose strane attorno alla scatola cranica escansiono i flussi sanguigni che passano nel tuo cervello e così vedo quali sono i centri che si attivano sulla base del sangue come vai sai cosa scopro e lo dico a te che parli tanto di libertà scopro che si attivano prima i centri dell'azione e poi quelli della decisione il che significa che tu prima agisci e poi interpreti la tua azione secondo quella della tua canzone che ti piace cantare il tuo inno preferito e così via ma in realtà c'è prima l'istinto poi c'è la decisione sì io effettivamente dico beh se le cose stanno così è difficile poi uno ci pensa sul momento non ha detto niente poi il giorno dopo però senti adesso però la risposta l'ho trovata e gli ho detto è vero sul momento è così però sai cosa c'è io poi posso vedere la mia azione la posso rivedere quell'azione istintiva che ho fatto la posso vedere la posso pesare so pesare e posso riformarla e il giorno dopo quando sarò nella stessa situazione agirò in maniera diversa oppure credi che tutti quanti siamo siamo agiti sempre da impussi esteriori e mai possiamo riformare noi stessi tu non conosci nessuno che è giunto a cambiarsi a riformarsi a poter dire non sono più quello di prima perché è migliorato si può anche peggiorare naturalmente però se uno lavora su se stesso quella quel sì insomma avete capito immagino cosa intendo dire intendo dire che la coscienza è un mistero che da un lato non la puoi trovare se la cerchi come cerchi questa penna non è un oggetto se ti metti a cercare la coscienza all'interno del cervello e vedere dove è il luogo preciso dove si dà la coscienza o se volete troviamo un altro termine l'anima che poi l'anima spirituale al fondo è la stessa cosa se la vai a cercare fisicamente non la trovi ma se la vai a cercare praticamente nell'azione nel cambiamento nella riforma della vita che un essere umano può fare nell'azione nella responsabilità la trovi la trovi e non solo la trovi capisci che le persone le valuti sulla base dell'azione o meno di questa coscienza perché tanto più le persone saranno ai tuoi occhi valide valorose preziose quanto più agiranno secondo questa coscienza e non saranno in vendita non saranno prevedibili ma saranno esseri pensanti creativi liberi responsabili meno meno quindi qui siamo al cospetto di qualcosa di misterioso qualcosa che la fisica la bioingegneria insomma quelle cose che vogliono che si approcciano al mondo semplicemente solo dal punto di vista quantitativo non troveranno mai ma non per questo non sono vere l'arte c'è qualcuno che può andare a trovare dove c'è il mistero dell'ispirazione della bella scrittura della metafora giusta della musica dell'armonia che arriva eppure va bene questo per dire la coscienza la coscienza l'anima è quello che siamo noi dentro e poi sulla terza domanda non sono molto esperto Dacia non lo so cosa ti risponderò adesso cioè mentre su queste cioè come conciliare la libertà individuale contro la libertà sociale mi hai fatto una domanda alla quale io non ho pensato queste cose le ho pensate da tanto tempo e vado su qui non lo so perché perché è una domanda è un tema complesso questo la cui risposta si chiama politica alla fine la politica quella vera ovviamente bisogna di questi tempi dire non è la politica quella vera è esattamente la conciliazione la risposta è la conciliazione tra la libertà individuale e la libertà sociale quando sei all'interno di un'organizzazione che ti fa essere te stesso sei libero ma al contempo sei legato sei legato e sei contento di essere legato sei nella polis e io non sono un esperto di politica vedo che la forma migliore di politica che noi abbiamo è scogitato lungo i secoli si chiama democrazia e io sento il rispetto è qualcosa di sacrale verso la democrazia al contempo vedo che è malata la nostra democrazia per tanti aspetti perché sempre più corre il rischio che da democrazia degeneri in oclocrazia immagino che voi sappiate la differenza ma per chi non la sa vedo che c'è qualcuno che fa così con la testa quindi per chi non la sa il greco antico ha diversi termini per dire popolo laos etnos e poi c'è demos e poi c'è oclos allora laos laos è laico è il popolo generico etnos è etnico etnico e quindi è il popolo in quanto nazione terzo termine demos demos prima ancora che vuol dire popolo vuol dire quartiere territorio quindi il demos è il popolo ordinato sulla base di un quartiere di un territorio responsabile verso questo territorio e quindi responsabile verso se stesso è un popolo istruito il demos da cui democrazia è il potere non del popolaccio ma del popolo responsabile oclos e la plebaglia panem e cercenses il popolo che non ha nessun interesse per il quartiere cioè per il bene comune per il territorio ma ha un interesse unicamente per il ventre e per insomma panem e cercenses per il nutrimento del corpo il nutrimento della psiche facci ridere facci divertire e così via ecco questo è e io vedo che il demos sempre più sta degenerando in oclos e quindi non so corrispondere a questa domanda vorrei vorrei fare una domanda una sola penso prima di introdurre l'altra lettura e la domanda riguarda uno degli elementi che per me sono stati più illuminanti di questo libro cioè la provenienza naturale dell'etica e con naturale intendo proprio della natura in particolare il fatto che l'etica nasca come abbiamo già detto prima anche Vito Mancuso da una logica delle relazioni dalle relazioni che sono un po' diciamo centrali per tutti i fenomeni anche per i fenomeni naturali per gli organismi che sono fatti di piccole cose che cooperano piccole cose che si collegano fra di loro e legandomi a questo mi collego a una delle domande più grandi che ho trovato nel libro che riguarda i diritti umani e anche un po' il concetto di responsabilità però insomma i diritti umani si chiede Vito Mancuso sono una costruzione naturale cioè sono una costruzione sociale culturale o sono anch'essi naturali hanno anche loro una provenienza naturale e questa secondo me è una domanda fondamentale la cui risposta smonterebbe o smonta tantissimi attacchi che vengono fatti tuttora ogni giorno in nome di un buonismo di un se facciamo qualcosa per gli altri siamo inutilmente buoni perché chi arriva ci ruba qualcosa invece se il concetto di cooperazione di essere collegati di essere in relazione è qualcosa di naturale non ci può essere uno sforzo negativo nella responsabilità l'uno per l'altro o sbaglio ma anche questo è un tema complesso e non solo complesso di profonda attualità allora la natura è madre madre natura però non possiamo dire questo senza subito convocare per esempio leopardi e pensare al dialogo dell'islandese per esempio e pensare che la natura può essere matrigna può essere terribile spesso lo è da loro lo è quelle cellule a cui ho fatto riferimento possono impazzire quando impazziscono diventano feroci e quella ferocia si chiama cancro eccetera eccetera insomma la guerra di tutti contro tutti come la natura la si può anche pensare così lo stato della natura che cos'è bellum omnium contra omnes è quella è quella cosa che porta quell'istinto che porta l'animale compreso l'animale umano a nutrire i propri piccoli ad allattare i propri piccoli a difenderli per la propria con la propria vita quello stesso istinto li porta nel caso di un leone a divorare nella maniera più feroce più feroce la gazzella così esattamente per nutrire i piccoli quindi quindi la natura è ambigua ma non c'è niente guardate che non abbia ambiguità niente per quello per questo è nata la cultura cioè la cultura secondo me prima ancora che come sfoggio di erudizione di abbellimento di cosa è coltivazione è coltura è coltura e così come è nata l'agricoltura allo stesso modo è nata la coltivazione di quel campo di spine e a volte è comunque strano dialettico ambiguo che è il campo interiore il campo interiore l'anima umana con tutte le sue le sue ambiguità di slanci di amore e slanci omicidi per cui la natura è certamente la madre ma è una madre appunto come ho detto che a volte è matrigna la cultura come cultura è nata è sorta io vorrei dire quasi miracolosamente uno dei misteri ma è sorta per far sì che quell'ambiguità della natura poco a poco si sciogliesse e diventasse prevalente la dimensione positiva quindi a questo punto nell'essere umano si dice accogli forestieri ma è una cosa antica molto prima antica dico prima delle religioni istituite io ho appena riletto le supplici di Eschilo proprio questo senso dell'accoglienza dell'accoglienza di persone che hanno bisogno e li accoglie certo un conto è accogliere una nave una che è di che ne so 40-50 persone e domani non ci sono altre navi e dopo domani non ce ne sono altre e quindi accogli e va bene un conto è accogliere una nave oggi e poi domani e poi dopo domani e poi non sono 50 e poi sono non è la stessa cosa chiaro no? ecco però appunto tornando al discorso la cultura è cultura della natura cioè solitamente si tende a contrapporre natura e cultura e ci sono i paladini della natura e i paladini della cultura quelli che appunto che non mettono insieme le due cose la realtà è che la cultura non può che nascere dalla natura tutto viene dalla natura da dove viene la cultura se è vera non può che venire dalla natura altrimenti è artificiosa è qualcosa di vezzoso no deve essere una risposta a bisogni reali della natura certo una risposta diversa è qualcosa che sale che fa salire la natura la sublima la tira su va bene quindi è certo che sono qualcosa di radicato nella nella natura in quel desiderio di relazione e prima ancora che desiderio quella logica di relazione da cui vengo ma se non la coltivo questa dimensione se non la educo se non la nutro e se non la nutro con quella luce della coscienza che viene da me se non faccio l'esame di coscienza se non porto fin da piccoli i bambini noi avremmo un bisogno guardate delle scuole di riformare adesso non vorrei fare però io io sento ma proprio come un dolore con dolore credetemi a volte sento come un dolore che noi diamo ai nostri bambini delle cose di cui non hanno assolutamente bisogno nelle nostre scuole non hanno bisogno di quelle cose e non diamo ai nostri bambini oggi delle cose degli atteggiamenti delle nozioni di cui hanno un bisogno estremo il mondo è cambiato il mondo è cambiato le informazioni che si davano un tempo e che la scuola continua a ridare le si prendono immediatamente da tutti questi aggeggi che abbiamo ta 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 si prendono non c'è bisogno di dare tante informazioni c'è bisogno di dare un'altra cultura io non sono un pedagogo non so di preciso che cosa ma per esempio il silenzio per esempio il raccoglimento la capacità di ascolto di te stesso appunto l'esame di coscienza la meditazione l'imparare il silenzio imparare l'ascolto di te lo sai che stai respirando lo sapete che si può passare la vita senza diventare coscienti che si respira noi diventiamo coscienti che respiriamo solamente quando c'è l'aria cattiva e non c'è aria ecco e tutto parte da lì dalla coscienza che respiriamo che siamo in connessione che se non ci fosse questa nostra continua connessione con l'ambiente noi tempo meno di un minuto non ci saremmo respiri prendi consapevolezza della tua connessione strutturale con il mondo per cui tu non sei un io da solo separato tu sei subito sistema ma se questa cosa la impari fin da piccolo poi da qui ti viene ti viene tutto ti viene l'armonia con gli altri ti viene l'educazione ti viene l'attenzione capisci che non sei un sistema chiuso ma che sei un sistema aperto e che più ti relazioni con gli altri più trai beneficio da te non devi fare il buono il buonista l'altruista devi fare la persona intelligente che capisce che la tua logica è relazionale e più sei in relazione armoniosa con gli altri più stai bene tu meno 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 sei in relazione con gli altri e meno stai bene tu meno stai bene tu quindi ecco diritti è così allora passiamo alla seconda il secondo brano letto dal dal nostro Andrea Casanova Moloni etica l'azione etica per eccellenza consiste nel generare giustizia compiendo ciò che è bene ed evitando ciò che è male è il pensiero di sempre a partire da Pitagora Socrate Marco Aurelio fino a Hans Jonas e Hannah Arendt per praticare l'etica l'empatia è importantissima direi essenziale a mio avviso essa costituisce buona parte della motivazione dell'azione etica motivazione che è il problema etico per eccellenza un problema cioè di tipo energetico ben più che cognitivo perché noi anche se non sappiamo sempre perfettamente cos'è il bene e cos'è il male il più delle volte lo sappiamo sappiamo se stiamo mentendo o dicendo la verità lavorando onestamente o in modo fraudolento pagando le tasse o evadendo il fisco e i mille altri casi della vita quotidiana lo sappiamo fin da bambini il problema vero in ambito etico consiste piuttosto nello scoprire come alimentare l'intenzione di compiere il bene e di compierlo sempre anche quando di per sé non conviene e di non compiere il male e di non compierlo mai anche quando di per sé conviene ebbene a mio avviso la carica energetica dell'etica è data dal sentimento più precisamente dal sentirsi non indifferenti al bene e al male degli altri ma accomunati in qualche modo con loro anche Kant la pensava così e in sete motivazionale faceva leva sul sentimento anche se specificava che il sentimento riguardava il rispetto della legge morale e non la partecipazione alla vita degli altri esseri umani Albert Schweitzer invece parlava di riverenza verso la vita e nella sua proposta etica il sentire il dolore e la gioia degli altri aveva molta più importanza in ogni caso provare empatia significa saper riconoscere le sensazioni e i sentimenti altrui ed entrare in consonanza con essi ed è da qui che si genera il carburante motivazionale per la pratica dell'etica in questa prospettiva che sostiene il primato della relazione si tratta solo di seguire la natura originaria sii te stesso ama davvero perché solo nell'amore tu ti potrai realizzare e starei bene grazie Andrea allora tornerei sempre al concetto di quello che viene dall'etica l'etica è complesso come concetto non è semplice una per esempio una cosa che tu dici che mi è interessato molto è la differenza fra sbagliare errare e peccare è molto bello quello che tu dici cioè si può sbagliare e fare del male sbagliando che è molto diverso da fare il male peccando perché perché sbagliando vuol dire che abbiamo fatto un errore e l'errore non porta una responsabilità diretta indiretta sì ma indiretta no mentre il peccare consiste in una azione consapevole consapevole del male che si sta facendo sta facendo a un'altra persona alla propria comunità alla proprio ambiente anche a se stessi ecco vorrei che tu chiarissi un poco questo concetto e poi arriverei a un'altra cosa che mi è molto interessato che le riflessioni che tu fai sull'odio che tu dici che l'odio fa parte della natura dei nostri istinti come l'amore sono due sentimenti che esistono in natura e che noi ci portiamo dentro però quando l'odio diventa parossistico e diventa incontrollabile tu lo chiami malattia dello spirito che mi è piaciuto molto come definizione ecco allora vorrei che tu riflettessi ancora un po' su questi due temi uno appunto la differenza fra errare fare del male senza saperlo o volerlo e invece peccare cioè mettere in azione questa malattia dello spirito che nasce dall'odio ma quante volte noi facciamo del immagino spesso del male senza 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 saperlo senza volerlo la gran parte del male viene dall'ignoranza quindi questo è qualche cosa come dire di fisiologico così se non c'è una cura se non c'è una consapevolezza un'educazione un'educazione etica ecco noi uno dei grossi problemi che abbiamo è che chi insegna oggi l'etica più un tempo lo si faceva a scuola un tempo lo si faceva in chiesa ecco sono scomparse forse entrambe le cose dico forse perché qualche eccezione ci può essere ma questo è uno dei grossi problemi della società contemporanea proprio l'educazione etica l'educazione che non è l'educazione civica è qualcosa che ha la base stessa dell'educazione che viene prima va bene quindi la gran parte degli errori provengono dall'ignoranza il problema vero è la malvagità quando il male non è fatto per errore per sbaglio ma quando è voluto quando si fa il male per il male quando si giunge a godere anche del male che si fa e che ottiene effetti esistono persone così è una domanda che tutti quanti ci dobbiamo fare esistono persone malvagie realmente malvagie o è solo questione di ignoranza cioè ci sono persone che giungono a proprio volere il male per il male a perseguirlo e a godere della sconfitta e della malattia e del dolore dell'altro dell'umiliazione del dolore dell'altro si può giungere a essere così ci sono ecco mi pare da vedere i vostri volti che i più sono a favore dell'esistenza ecco e appunto questo è un e sì anch'io penso che ci siano la letteratura ne dà attestazione penso a Iago per esempio penso ai demoni di Dostoevsky Stavrogin come figure che fanno il male senza avere nessun tipo di guadagno se non proprio il gusto perverso del male il piacere del male alla fine il nazismo cos'è stato che tipo di ideologia qual'era il motore nazismo barra fascismo perché forse ancora prima il fascismo me ne frego i teschi i teschi le camicie nere i teschi la morte me ne frego anche ho riletto recentemente il manifesto del futurismo la guerra e igiene del mondo il volere proprio l'elogio del pugno lo sprezzo delle donne il disprezzo della donna questo ecco questa volontà proprio di imposizione di godere appunto della sottomissione del disprezzo degli altri il contrario della relazione armoniosa come se e questa cosa esiste ed esiste come una malattia secondo me secondo me perché è una patologia rispetto a quella logica di 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 armonia che è la logica da cui veniamo che è la logica che ci tiene in salute che fa sì che ci sia appunto scambio relazione tra noi all'interno del nostro corpo e così via e che altro posso dire io niente questo non è un fatto è una malattia è come ci sono malattie dello spirito sì le malattie mentali non sono solamente l'ansia la depressione i disturbi alimentari i disturbi di comportamento no sono malattie mentali sono anche i pensieri sbagliati e uno dei pensieri sbagliati può essere quello di che il male abbia la sua legittimità un suo piacere un suo gusto e così via e l'odio è una forma particolare di questo ma io cosa devo dire dell'odio certo è una malattia dello spirito e io penso qual è l'eziologia di questa malattia ci sto pensando adesso Dacia qual è l'eziologia se fossi un medico un medico perché uno giunge a odiare volere il male di un altro e a godere del male dell'altro ma non è forse perché non ha ancora veramente accettato se stesso è un'ipotesi la mia forse ancora non è contento di esserci sta male con se stesso e questo star male su se stesso lo proietta fuori di sé ha bisogno di trovare qualcosa qualcuno per proiettare questo suo malessere interiore contro il quale lotta e facendo così in qualche modo ritiene di potersi liberare di questo male di questo roditore che ha dentro e che rode il suo istinto vitale il suo desiderio di vita il suo forse il lavoro che deve fare è quello di accettarsi di dire di sì alla vita forse non ha mai detto di sì alla vita una persona così e allora capite che se così stanno le cose a questo punto non abbiamo a che fare con un malvagio ma abbiamo a che fare con un malato e forse veramente il bene è anzitutto qualcosa di fisico perché quando uno sta bene sta in salute e in salute con se stesso una salute fisica una salute psichica e una salute spirituale gli viene spontaneo gli viene naturale promuovere il bene in tutte le forme e se vede uno che dice qualcosa di bello per esempio che ne so è uno scrittore e vede che un giovane scrive una cosa è contento di dire hai scritto una cosa bellissima o sei un filosofo e vede un altro giovane o non giovane anche suo anzi coetaneo ancora di più che fa una cosa e dice hai scritto un libro bellissimo e gode nel dire hai scritto una cosa bellissima è contento di diglierlo perché sta bene con sé non cova quella gelosia quel ressentimento che ti porta invece a a non riconoscere il merito e a non felicitarsi Nietzsche da qualche parte dice una cosa bellissima dice si usa ripetere che gli amici si riconoscono nel momento del bisogno del pericolo non è così non è così dice il mio avversario dice il mio avversario ma non nel senso del nemico è un filosofo con il quale mi confronto sempre e quando dico qualcosa scrivo qualcosa dico ma lui cosa direbbe perché sì va bene chiuso parentesi e ho capito questa cosa che se io ho un amico che è in difficoltà e lo aiuto potenzio il mio io non so se e quindi certo come dire sono generoso ma nel mio essere generoso guadagno psichicamente parlando guadagno se invece il mio amico raggiunge la cattedra alla quale anch'io aspiravo o vince il premio strega campiello e che ne so al quale anch'io aspiravo e che io non ho vinto e non vincerò mai e lui va avanti allora partecipare della sua gioia significa diminuire psichicamente il mio ego capite e quindi e quindi è qui che si vede se io veramente partecipo di lui perché giunge lì dove io avrei voluto giungere e non arriverò oppure no ecco quindi tu dici che l'odio spesso viene dall'invidia sì invidia invidia non stare bene con se stessi dico che l'odio viene da non stare bene con se stessi da non essersi accettato l'invidia l'invidia è secondaria prima ancora c'è una malattia c'è un non stare bene con sé ecco questo è un'ipotesi qui io vorrei leggere una cosa che dici tu io non sottovaluto la forza dell'odio ma contesto che sia veramente intelligente anche questo è molto bello penso anzi che in realtà l'odio sappia vedere solo se stesso e non l'altro nella sua realtà effettiva perché anche quando vede l'altro vede in realtà solo il proprio pregiudizio che necessariamente gli impedirà di riconoscere il bene e il bello dell'altro ma gli confermerà infallibilmente che l'altro è solo male e deformità insomma alla fine l'odio quindi non è intelligente ma stupidamente circoscritto mi piace molto questa definizione stupidamente circoscritto allora questo è l'odio è una deviazione è qualche cosa appunto che che ho letto attentamente quindi l'odio è appunto una menomazione però che si rivolge all'altro che vuole fare male all'altro ma in realtà è contro se stesso come hai detto tu è contro l'armonia di stare al mondo giusto? benissimo ancora qualcosa che ti volevo chiedere a proposito per esempio della sessufobia tu dici che la la sessualità è parte della vita che cosa significa per molte religioni e molte morali restrittive persecutorie l'odio per il sesso cioè la sessufobia perché di solito le le ideologie e le soprattutto le ideologie più restrittive più repressive partono proprio dal sesso che cos'è che che crea questo questo terrore questa paura del sesso ma guarda prima parlavamo dell'ambiguità della natura beh se c'è un luogo dove la natura mostra la sua ambiguità è proprio la dimensione sessuale secondo me per eccellenza la quale fa toccare diciamo i vertici più alti dell'esperienza umana dell'essere qui e al contempo può far degenerare un essere umano in una bestia la più feroce e gli esempi sono ogni giorno offerti dai giornali soprattutto della dimensione negativa perché i giornali questo hanno di male i giornali le notizie i telegiornali che non trasmettono mai la fisiologia ma sempre solo patologia cioè ti ricordano che c'è stato uno stupro e quindi hai la dimensione negativa della sessualità ma non ti ricordano che ci sono stati magari anzi senza magari tanti milioni di amplessi e le persone erano contente felici si sono accarezzati si sono accolti hanno vissuto un momento di unione profonda con se stessi e con il mistero della natura con se stessi e con qualcosa di più grande di se stessi che è il mistero della natura quasi una specie di partecipazione al al Big Bang iniziale al momento creativo profondo va bene quindi la sessualità è la natura la partecipazione alla natura è quell'ambiguità che la natura porta dentro di sé ma perché le ideologie restrittive cioè per esempio i regimi dittatoriali hanno come primo bisogno quello di reprimere la sessualità perché la sessualità è disordine è eversione è ribellione è pensiero cioè la sessualità può essere anche un'espressione di sé che va contro l'ordine prestabilito è questa la paura? sì penso di sì penso è qualche cosa di caotico la sessualità è caotica e quindi i regimi totalitari sia di tipo religioso sia di tipo politico che amano invece il logos la logica ma una logica così forte e determinata da essere totalitaria appunto e vogliono anzitutto controllare quello sì quindi esiste questo potere il potere sulle persone si ottiene anzitutto controllando i loro sentimenti la loro dimensione caotica e controllando la sessualità difatti sempre la libertà politica assume uno dei primi momenti in cui si manifesta la libertà politica e nella libertà sessuale le due cose sono unite la repressione della sessualità e anche la repressione delle libertà individuali ad altri livelli quindi le due cose sono legate poi c'è c'è una dimensione anche di repressione prendi il buddismo prendiamo il buddismo il buddismo è tra le religioni delle grandi religioni la più mite anche lì alle sue ci sono state anche lì naturalmente anche ora adesso la Thailandia il popolo dei Rohingya delle pulizie etniche che vengono fatte eccetera quindi non c'è niente di perfetto niente però detto questo rispetto a certa ferocia diciamo così dei monoteismi vari insomma è anche dell'induismo vedi le caste vedi la maniera con cui viene trattata la donna i roghi delle vedove che fino a poco tempo fa si facevano insomma va bene il buddismo è più mite eppure il buddismo nei confronti della sessualità ha un atteggiamento non tocca a me io non sono buddista anche se sono simpatizzante ma è molto simpatica e mi nutro di testi e di maestri spirituali però non sono buddista l'ho spiegato anche perché nel mio libro sul Buddha eccetera ma comunque l'ideale del buddista è il monaco e il monaco o la monaca lo dice la parola monos non ha nessun tipo di relazione sessuale quindi esiste una diciamo così una puoi chiamarla repressione puoi chiamarla sublimazione in questo caso da un lato hai la cosa negativa che è la la repressione il controllo dall'altro esiste nel buddismo ma ovviamente anche nel cristianesimo gli ordini religiosi castità povertà obbedienza una maniera serena così dire di mettere a tacere di 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 non esercitare la genitalità più che la sessualità cioè la dimensione così dell'incontro fisico vero e proprio per per non lo so che cosa non tocca a me dirlo perché io non sono stato capace di fare questa cosa io qualcuno di voi lo saprà molto giovane avevo 23 anni e mezzo l'età canonica è 25 io a 23 anni e mezzo sono stato ordinato nel Duomo di Milano dal cardinale Carlo Maria Martini e dopo un anno a 24 anni e mezzo sono andato dallo stesso cardinale dicendo getto la spugna do le dimissioni proprio per la per la dimensione sessuale perché capivo che non avrei potuto continuare a a essere sereno senza l'esercizio ecco non sublimato ma concreto della dimensione sessuale quindi non tocca a me parlare di cose che non su cui non sono stato capace però mi sembrava giusto ricordare che ma a me sembra che la la castità è una cosa bellissima ma deve essere una scelta non un obbligo questa è la cosa cioè come la sublimazione è una scelta cioè se è come l'amore l'amore è veramente una delle cose più meravigliose del mondo ma non lo puoi imporre l'amore o l'odio non le puoi imporre no e quindi deve essere una scelta la fedeltà non si può imporre se è scelta è una cosa meravigliosa ma se diventa una un obbligo come appunto è stato per tanti secoli la fedeltà per esempio della moglie verso il marito che la poteva uccidere se tradiva mentre il contrario non era così oppure non so appunto certe fedeltà anche del contadino verso il proprietario di terra tanto per dirne uno grande proprietà feudali ecco io credo che questa è anche molto importante capire che alcune alcuni caratteri della virtù sono importanti se sono scelte no ecco allora anche la castità anche la spiritualità anche un modo di stare al mondo deve essere una scelta non un obbligo perché se è l'obbligo diventa improvvisamente qualche cosa di imposto di prepotenza di mancanza appunto di libertà no io mi ricordo che mio padre e mia madre devo dire che ha avuto un'educazione da questo punto di vista molto liberale mi hanno sempre detto io non ti dico non fare questo non fare quello mi hanno sempre detto tu fai quello che vuoi basta che non tradisci la tua dignità questa è l'educazione che io ho avuto e credo che questo dovrebbe essere no non è che tu non devi rubare perché c'è il poliziotto dietro l'angolo tu non devi rubare per rispetto verso te stesso no non è così questo dovrebbe essere allora che cosa bisogna fare nell'educazione educare alla dignità educare a essere rispettosi verso l'altro ma non perché te lo obbligano ma perché tu sai che se non sei rispettoso verso l'altro perdi qualcosa di te stesso perdi rispetto di te stesso e tu sai benissimo che quando perdi rispetto di te stesso perdi rispetto degli altri non è così questo è fondamentale e allora da lì dovrebbe venire l'etica almeno io la vedo così un'etica semplicissima che però dovrebbe bastare per tutti che appunto non è da fuori che viene il bisogno di essere migliori di essere attenti verso l'altro ma da dentro questo credo che lo dici tu nel libro io volevo dire una cosa solo un breve commento per dire queste bellissime parole di Dacia io le sottoscrivo tutte sì è vero anche nel libro io dico queste cose hanno un concetto importante che volevo richiamare che è il concetto di filautia che è un termine greco che vuol dire amore di se stessi c'è una è la differenza è l'amor proprio e l'amore di se stessi l'amor proprio è qualcosa di negativo è il narcisismo se volete portato alla potenza quello di chi ama se stesso più di qualunque cosa e non fa l'esperienza del valore di cui parlavamo all'inizio la filautia cioè l'amore verso di sé è invece quella salute quella salute di fondo di chi sta bene con sé di chi è grato verso la vita per essere qua e non vuole fare nient'altro che esprimere questo suo riconoscimento verso se stesso questo suo amore verso se stesso in tutte le manifestazioni è la dignità la si può spiegare esattamente così io devo essere sempre degno di che cosa? di me devo essere degno di me degno del lavoro che mio padre e mia madre hanno fatto della vita ma anzitutto prima ancora degno di me e non perdere mai questa autostima questa autostima questo è veramente qualcosa di decisivo poi e poi niente poi qui c'è la coscienza poi qui c'è l'anima poi qui tutto questo lo si può interpretare attraverso le categorie metafisiche antropologiche ma il fondo è questa esperienza umana originaria che è l'autostima e la dignità sì ascoltiamo il terzo brano terzo e ultimo brano tratto dal libro di Vito Mancuso il problema dell'educazione morale tutto quanto detto finora comporta come precisa conseguenza l'importanza decisiva dell'educazione etica proprio perché siamo una congerie antinomica di possibilità è quanto mai essenziale l'educazione della coscienza morale ma quali forme di educazione etica vi sono oggi come attivare o riattivare la responsabilità della società al riguardo l'educazione civica non è sufficiente perché prima di essere cives o cittadini noi siamo esseri liberi e pensanti prima di educare la coscienza civile dobbiamo educare la coscienza etica che oggi si fa carica dell'educazione etica il concetto di educazione quando va bene è ridotto alle buone maniere ne viene che la parte più importante di un essere umano cioè la coscienza morale è lasciata al caso oggi si perseguono solo scopi conoscitivi trasmettendo informazioni ma ci si guarda bene dal trasmettere formazione cioè valori criteri di giudizio modelli di pensiero e di vita l'educazione perciò si perde l'etica viene scambiata per buonismo l'etica costituisce in modo decisivo l'identità più autentica di ognuno di noi perché perché noi siamo liberi indeterminati e la parte più peculiare della nostra persona o personalità è data dal modo in cui gestiamo la nostra libertà e ci determiniamo ognuno di noi ha delle caratteristiche peculiari quali sensibilità intelligenza sapere professionalità ma la nostra essenza specifica non è data da ciò che sentiamo capiamo facciamo pensiamo bensì dal modo con cui facciamo uso di ciò che sentiamo capiamo sappiamo facciamo noi siamo la nostra moralità è questo il peso specifico di un essere umano uno può nascere più o meno intelligente più o meno dotato di sensibilità estetica e così via non è merito suo il merito lo ottiene nell'uso delle qualità che la natura la storia la provvidenza divina il caso la fortuna gli ha dato ho sostenuto che alla domanda chi siamo si deve rispondere che siamo esseri morali non nel senso che siamo necessariamente giusti ma nel senso che la giustizia è quello che misura il nostro valore possiamo essere morali o immorali ma è comunque sempre la moralità in quanto misurazione della giustizia a costituire il criterio decisivo della nostra identità e il nostro valore in quanto esseri umani ci siamo definiti sapiens in questa definizione in gioco da subito l'etica sapienza infatti non è semplicemente conoscenza ma è l'unione di conoscenza e di virtù ricordando dante considerate la vostra semenza fatti non foste a vivere come bruti ma perseguire virtute e canoscenza l'unione di virtù e di conoscenza da sapienza per questo un essere umano veramente realizzato che ha portato a compimento la sua semenza è moralmente retto se non lo è non è veramente umano e ha fallito il lavoro principale per il quale è nato grazie mille grazie mille Andrea Casanova Moroni per queste letture io volevo concludere concludiamo questo incontro cito un capitolo l'inizio di un capitolo uno dei capitoli finali di questo libro che mi sembra proiettato al futuro e mi piace concludere con questa proiezione in avanti dopo decenni in cui si è scelto di decostruire abbattere svelare falsità dopo la volontà di smantellare il lavoro dei secoli precedenti è quasi naturale direi fisiologico avvertire il bisogno del procedimento contrario quindi ricostruire ed è con questo slancio verso una ricostruzione verso una ricostruzione che si basa su tutto ciò di cui abbiamo parlato questa sera sul sul fare relazione sul pensare agli altri sul trascendere noi stessi senza però tradire noi stessi e con questo concludo questo incontro di oggi ringraziando Vito Mancuso grazie mille per essere stato con noi e per queste preziose parole ringrazio ovviamente Dacia Maraini e Andrea Catanova Moroni per aver letto ringrazio tutti coloro che hanno permesso questa serie di incontri e il Festival Pescassario di Legge la concessionaria Sterpetti Ricola Antonangelo Assicurazioni Ciro Flagella Franco Sport Cantina Antollo e BCC vi faccio una piccola agenda di quello che succederà nei prossimi anzi stasera in realtà alle 21 e 15 ci sarà il concerto del coro decima sinfonia di Pescassero della maestra Anna Tranquilli Neri alla Abbazia di Santi Pietro e Paolo domani ci sarà un incontro sempre qui alle 18 e 15 con Angela Mauro il libro Europa Sovrana la rivincita dei nazionalismi e invece domani mattina vi ricordo un importante incontro dalle 11 alle 13 si sarà un evento divulgativo per far luce su alcune problematiche inerenti alle malattie neurodegenerative la tassia spino cerebellale farà parte di queste patologie e la fondazione Acaref si impegna da anni con un progetto di ricerca e sostentamento alle famiglie degli ammalati per trovare una cura ovviamente inoltre verrà presentato il progetto Il Monte Analogo un tracking letterario di beneficenza che si terrà domenica 20 agosto i cui proventi saranno devoluti alla ricerca interverranno le autorità Pescasserolesi la compagnia di teatro e l'associazione Acaref grazie lo hanno detto domani sera sì 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 c'è la possibilità anzi vedo che già molti hanno molti e molte hanno comprato il libro lì c'è la libreria che appunto vi dà questa possibilità e Vito Mancuso di Marla per il film a copie grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille